Ma certo che però sta cosa interessante, è veramente interessante, perché vedete, il Consiglio Comunale ha approvato il 30 giugno 2016 il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l'elenco annuale degli interventi manutenzione straordinaria viabilità per l'importo leggo di 250 mila euro. Il progetto definitivo è stato redatto per un importo di 159 mila euro, cioè c'è stata una bella riduzione, quasi il 30%. E infatti, eccolo qua, vedi come come lo spiega bene. Piripipiripip, rubupparapà, dato atto che il verbale è andata, seduta, riservata, eccetera, preso d'atto le manifestazioni di interesse. Ecco qua, l'8 maggio 2017 è stata proposta la giudicazione all'impresa Edo Costruzioni che ha fatto un ribasso del 28% circa. Bla 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 bla, guardate le ripetizioni, con determinazione dirigenziale, con determinazione dirigenziale, per di sempre la stessa cosa. La burocrazia è una cosa, è una cosa tremenda, guardate. Preso atto della richiesta inoltrata dall'impresa Edo Costruzioni SRL, che ha vinto, diciamo, che ha avuto l'assegnazione, intesa a ottenere l'autorizzazione al subappalto dei lavori ascrivibili alla MC Appalti di Cristini Mattia, con sede in Colleferro, che è la ditta che sta facendo sto lavorone delle strade affrascati in modo veramente greggio, per un importo di 28.500 euro esclusa IVA. Considerato che la documentazione risulta pari a 28.280 euro, quindi cari ragazzi, quel lavorone fatto egregiamente, che questa ditta di Colleferro sta terminando, è così, stato, se non leggo male, 28.500-280 euro. Perché dico questo? Perché mannaggia la miseria, ma io mi ricordo che la Rotonda è il Santissimo Sacramento, no? E qualche cosa, qualche dosso su Via Canina mi sembra, ma spesero 400.000 euro. Ma comunque prendiamo atto di sto fatto, si sta eseguendo un ottimo lavoro a 28.500 euro, escluso IVA. Bene, a futura memoria.